Alla piva emiliana c'è Manu! Ragazzi un applauso della Madonna per me! Votate Radis! Grazie! Al pianino il maestro Marco! Ragazzi un applauso del Signore per lui! Allora lui è sempre Manu, però stavolta sono in Guzzucchi, direi un applauso ponderatamente il catto cristiano per lui! Oh! Ciao a tutti! Questo che suona il piccolo e che tratta ogni tanto si chiama Gurri! Ok! Non ho mai capito! Allora ciao! Allora! Allora! Alle corde basse c'è Iamo! Dalle corde alte invece c'è Riccardino Pentra! Un santo uomo! Alle pelli percutibili! Il batterista con la maglietta più bella della giornata! Un applauso al Gallo! E poi c'è crescita la voce che ha anche palla in giro! Ciao a tutti! Ciao a tutti! E grazie dell'amore che ci avete dato oggi! Grazie! 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 Grazie!